Ciao Simone, come va? Ciao, direi che va molto bene, ho fatto un bel viaggio, un viaggio che è partito dal mio centro a espandersi per tutto il corpo, sono riuscito per un attimo a connettermi quindi penso col tutto, quindi cielo, terra, ho vibrato, in quel momento ho vibrato parecchio in tutto il corpo, quindi mi succede, bella esperienza. Grazie.